Sbaglia il secondo, attenzione, 25 secondi, 25 secondi, attenzione, lui deve andare con Wilkins, lui è veloce, 20 secondi, è un film, prova Danilovic, da 3 punti, segna, incredibile, c'è anche fallo, segna da 3 punti, Sascha Danilovic, incredibile, incredibile, ha un mutulito a tutti, hanno giocato, ha tirato da 8 metri, guardate, guardate, è un metro abbondante oltre i 6 e 25, 7 metri e mezzo, Realizza, subisce, fa Superstar DJs Here we go! Big girls Big boys Superstar DJs Here we go! Big girls Big boys Superstar DJs Here we go! Big girls Big boys Superstar DJs Here we go! Big girls Big girls Big girls Ciao 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 Hey girls Hey boys Superstum DJs Here we go Superstum DJs Here we go Here we go Superstum DJs 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 Here we go